Questa sera abbiamo finalmente l'onore di ascoltare una delle grandi locomotive del progetto di Wonder Grottole. Andrea Paoletti, ci puoi raccontare come è nata questa idea grandiosa di Wonder Grottole? Qual è stata la scintilla che ha fatto scoccare questo progetto che l'ha fatto nascere? Certo, la scintilla è sicuramente l'incontro tra persone. Come dico sempre, Wonder Grottole è un grande progetto relazionale. Io e Mariella abbiamo conosciuto Silvio, che è appunto il grande attivatore locale. Abbiamo capito che con lui si potevano fare delle cose, perché appunto tu parlavi di scintilla e Silvio aveva la luce negli occhi quando parlava del suo paese, di quello che avrebbe sognato per il suo paese. Quindi dal 2013, che è l'anno in cui ci siamo incontrati, abbiamo iniziato un percorso insieme. Quindi Wonder Grottole è un grande progetto, un paese laboratorio, tuttora è un progetto che noi lo definiamo sperimentale, perché nulla è definito al 100%, e rispetto a questo quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme. Prima, diciamo, in una maniera informale, ovvero che venivamo qua in determinati momenti per determinati progetti, provare a lavorare con la comunità, col territorio, tutto quello che rappresenta il vero patrimonio di Grottole, e successivamente nel 2018 abbiamo fatto questo salto, diciamo io lo chiamo salto di responsabilità, ovvero abbiamo deciso di aprire un'impresa sociale. Wonder Grottole è un SRL impresa sociale, è stata una scelta ben precisa, quindi noi non siamo un'associazione culturale, anche se spesso nei piccoli borghi uno non capisce bene la differenza tra un'associazione e un'impresa sociale, però veramente l'impresa sociale è fare impresa, quindi vuol dire che a fine anno ci sono dei bilanci, bilancio sociale in quanto siamo in impresa sociale, ma anche bilancio economico, i conti devono tornare, ci sono delle responsabilità ben precise e nel nostro caso la scelta di aprire un SRL era anche il discorso che l'oggetto sociale della nostra impresa è quella di riabitare il centro storico. Questo lo facciamo in due modalità principali, uno è rigenerare degli edifici e l'altro invece è la costruzione di una nuova comunità che è data dalle persone che vivono già a livello locale e persone che vengono da tutte le parti del mondo, quindi gestire un patrimonio immobiliare ci sembrava creando un SRL, impresa sociale, la forma migliore per garantire anche al progetto un processo più nel tempo e nel senso di lungo periodo.